Situazione economica del Veneto e del Padovano, recovery plan, bandi del PNRR e infine i provvedimenti economici del governo. Sono gli argomenti che il senatore Antonio De Poli ha affrontato durante il primo degli incontri della terza edizione di Padova tutti convocati. L'iniziativa Ascom ConfCommercio, che prevede una serie di audizioni degli stakeholder istituzionali padovani sul tema dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Penso che questi incontri diano veramente quello che manca da anni al nostro territorio, l'informazione, il coinvolgimento, il lavorare insieme. Questo è quello che ci dà la possibilità e la speranza di uscire, anche se stiamo vivendo un momento drammatico. Dopo due anni di pandemia, una guerra nel cuore dell'Europa è un altro segno che ci sta preoccupando in maniera seria, in maniera anche profonda. Però io ritengo che dobbiamo anche guardare sempre avanti, guardarlo con fiducia e guardarlo con estrema volontà di uscire da questo momento. Con 80 slide ricche di riferimenti economici, De Poli ha fatto chiarezza sullo stato dell'arte degli interventi previsti nel nostro territorio. Occasione da cogliere per ridare slancio all'economia e alle imprese. Serve conoscere cosa significa il recovery, quali sono gli obiettivi, quali sono gli strumenti e altrettanto quali sono i bandi per poter raggiungere le nostre imprese, le nostre comunità e far sì che le risorse che ci sono vengono impiegate nel migliore, nei modi e nei bisogni che hanno le aziende da una parte e i cittadini dall'altra.